Ah, quella roba... io personalmente, scusate, io leggevo Repubblica e mi indignavo quando anziché fare una campagna anti-berlusconiana su questioni per esempio di connessioni, vicinanza, diciamo, rapporti tra Forza Italia e la mafia, si andava soltanto sul personale, sull'oggettina e cose varie. Lei è di Repubblica? Sono collega di... Oh, io personalmente, a me non mi ha indignato clamorosamente che il figlio di Salvini si è fatto un giro su quella moto, mi ha molto... no, no, infatti sto rispondendo, le sto arrivando a ragionamento, mi ha molto più indignato invece il comportamento, perché io personalmente, che sapete che ho criticato la stampa in ogni modo, non mi sono mai permesso di mancare di rispetto ad un cronista, un giornalista che faceva liberamente delle domande. Quello è molto grave, come per me è grave che sia qualcuno abbia provato a impedire che fossero fatte delle riprese. Quindi a me, più che la stupidaggine in sé è un giro su una moto d'acqua che è ridicolo, cioè ripeto, è ridicolo soprattutto perché questa Lega vota Radio Radicale, Quattrini a Radio Radicale, il TAV, fanno i pavidi con i Benetton quando ora arriva il 14 agosto. Io non mi sono dimenticato di quei morti sul Ponte Morandi. Ecco, più che questa roba qua, a me indignano questi comportamenti della Lega, ma ho giudicato da cittadino molto più preoccupante il fatto che si sia mancato di rispetto in quel modo assurdo a quel cronista che legittimamente faceva una domanda.